Dal 16 al 19 settembre a Castelnuovo del Garda torna la storicissima Festa dell'Uva. Esattamente, anzi Festival dell'Uva, perché quest'anno è stata cambiata. Abbiamo recuperato un'area bellissima che era prima abbandonata e messa a disposizione per i cittadini di Castelnuovo e dei turisti. Troveremo tantissimo divertimento, sport, cultura, con una bellissima mostra organizzata dalla Galleria Massella e ovviamente il meglio che abbiamo sull'aspetto enogastronomico. La manifestazione si svolge tra il Parco del Tionello e la Torre Viscontea. Lungo il camminamento che porta alla torre si trovano stand per la degustazione di vino e prodotti del territorio. Stand che aprono la sera a partire dalle 19.30, mentre domenica 19.00. La Kermess accoglie i partecipanti dalle 11.00 fino alle 23.00. Ricco il programma con spettacoli, musica, giochi per bambini e iniziative sportive. Castelnuovo del Garda è ancora protagonista, perché in queste ultime settimane abbiamo fatto partire l'iniziativa Morro nel Piatto, che condividiamo con tanti ristoratori e tanti bar del nostro territorio. Abbiamo fatto l'Europosia Challenge, il campionato mondiale delle bollicine, e adesso il nostro Festival dell'Uva, rinnovato soprattutto nella location, perché abbiamo deciso di valorizzare anche un altro punto di Castelnuovo del Garda, che è il sotto della Torre Viscontè col Parco Tionello. Quindi offriamo sia ai turisti ma soprattutto anche ai nostri residenti un nuovo modo di vedere e vivere Castelnuovo del Garda. Appuntamento a Castelnuovo del Garda fino a domenica 19 settembre per il Festival dell'Uva. L'ingresso alla manifestazione è consentito solo ai possessori di Green Pass.